questa è la storia dei resti trovati per la prima volta di un bambino vampiro piccolo l'eccezionale scoperta è stata registrata in polonia il bambino vampiro aveva tra 5 e 7 anni fu seppellito a testa in giù con un lucchetto attaccato al piede per evitare che si risvegliasse e che così potesse perseguitare i vivi il bambino vampiro deve essere vissuto nel 17 secolo all'epoca era comune ritrovare tombe di presunti vampiri seppellite a testa in giù con lucchetti alle caviglie per evitare che scappassero e perseguitassero famiglia e vicini tuttavia è la prima volta che vengono rinvenuti in europa il resto di un bambino vampiro così piccolo morto probabilmente quando aveva tra 5 e 7 anni il bambino venne seppellito a faccia in giù cosicché se si fosse risvegliato avrebbe mangiato la terra e avrebbe faticato a rialzarsi e con un lucchetto agganciato probabilmente all'alluce la tomba venne depredata poco dopo la sepoltura e tutte le ossa furono rimosse a eccezione di quelle della parte inferiore delle gambe la necropoli scoperta 18 anni fa ha restituito un centinaio di tombe tra cui quella di una presunta donna vampiro nel 17 secolo era comune seppellire i corpi di chi era ritenuto un vampiro cercando di impedire che si rianimassero e che così potessero perseguitare i vivi ad alcuni veniva tolto il cuore altri venivano legati o bloccati con lucchetti a terra e altri ancora fermati con una sbarra di ferro secondo quanto spiega al new york times martin rady storico dell'università college di londra la donna e il bambino non possono essere definiti veri e propri vampiri i vampiri hanno tre caratteristiche sono fantasmi si nutrono dei vivi e sono contagiosi secondo le leggende polacche esisterebbero però due tipi di fantasmi uno si chiama upior simili a dracula e l'altro tipo si chiama strza delle specie di streghe spiriti maligni femminili che mangiavano e bevevano il sangue degli umani verso la fine del medioevo divenne una sorta di tradizione in centro europa specialmente in polonia lasciare dei lucchetti nelle tombe e questa abitudine continuò nelle comunità ebree polacche almeno fino alla seconda guerra mondiale l'obiettivo era di impedire ai morti di parlare male o di raccontare di questo mondo nell'aldilà e secondo polischi il bambino e la donna ritrovati in polonia non erano ebrei perché se lo fossero stati li avremmo trovati in un cimitero ebraico ma un'altra spiegazione è che questi donna e bambino potessero essere come dei reglietti sociali perché perché potevano essere stati non battezzati essere morti suicidi aver avuto un comportamento strano in vita pensiamo a tutte le malattie mentali che hanno trattati come manifestazioni del diavolo o potevano anche essere morti in una grande epidemia ed essere stati tra i primi a morire per via di questa epidemia per cui il loro comportamento o le loro sofferenze così non usuali avrebbe potuto portare a questa decisione di seppellirli da qualche altra parte isolati dal resto della comunità